Giotto è un artista consacrato della storia e però il novecento ne intende l'assoluta attualità. Prima Cézanne in Francia e poi dopo le avanguardie del futurismo e del cubismo, in Italia una sensazione, una coscienza di ritornare alla stabilità delle forme classiche e quindi vedere in Giotto quella pittura primitiva da cui tutto parte, che è l'inizio della pittura moderna, nella visione di Carlo Carracca. La necessità di partire da zero, quello zero per Carrà e Giotto. Così fa Sironi, che però ne interpreta in senso più monumentale, più assoluto, e così fa Martini. Le presenze sintetiche che sono nell'opera di Giotto, nella Cappella degli Scrovegni e anche ad Assisi, sono il punto di partenza per le forme pure e assolute delle sculture di Martini. Quindi i tre più importanti maestri, dopo le avanguardie futuriste, guardano Giotto come un nuovo inizio. Poi il percorso della mostra si muove fino ad arrivare a Klein, a Rotko, a Matisse, cioè artisti che intendono un'essenza di Giotto, che è della semplicità, della sintesi, ma in mezzo, negli anni 30, 40 e 50, ci sono artisti in parti dimenticati, penso a Pietro Gaudenzi, penso a Carlo Bonomi, che risalgono a Giotto per la sintesi, per la capacità di avere una struttura formale di grande controllo e misura. E quindi tutto il secolo è governato da un'attenzione particolarissima per questo iniziatore. La storia dell'arte comincia con Giotto e la storia moderna ricomincia con lui. Quindi la funzione di Giotto per gli artisti del Novecento è pari a quella di Picasso, se non più grande. Senza Giotto non c'è arte moderna.